Stunzo, lasciami! Ehi, 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 che ci fai col cellulare di Carla? Non mi dire che sei anche un ladro del cazzo, cameriere, ce l'hai nel sangue. A tuo fratello non gli ha spezzato le gambe, ma... Fermo, Guzman! Si è solo confuso. Le nostre custodie si assomigliano. Ma che dici? Lascialo andare. Prendi, è tutto tuo. Sai come sbloccarlo, no? Se me lo dai, avrai cancellato tutto quello che può comprometterti. Se ci fosse stato qualcosa, certo che l'avrei cancellato, non sono stupida. Ma non c'è niente perché io non c'entro con questa storia. Neanch'io sono stupido, cazzo, guardami negli occhi. Quello che hai detto non era un gioco, era vero. Hai qualcosa a che fare con la morte di Marina. Fuori! Sì, è vero e sai perché? Perché non ero con lei. Sono sempre stata la sua migliore amica. E l'ho abbandonata per stare con Lu, perché era più simpatica. E meno pesante. Non ero con lei quando ha saputo dell'HIV. Quando usciva con tuo fratello, quando ha rubato gli orologi. Non sono stata sua amica. E adesso lei è morta. E adesso lei è morta. � E adesso lei è morta. Ciao!